Buonasera, noi siamo la contrada dei Zestari! Noi siamo i Zestari di Santa Lucia e veniamo da Cornè, principalmente. Questo è il nostro capocontrada Claudio, questo è il nostro stendardo. Il nostro simbolo è il cesto perché appunto nella nostra zona una volta si intrecciavano i cesti con la canapa. Per questo ci chiamiamo Zestari, vero giusto Mirko, vincemmo sempre. Allora, quest'anno noi saremo coinvolti in una rievocazione storica che prevede l'investitura di Obizzo II d'Este come protettore della Sacra Romana Chiesa. Dopodiché ci sposteremo davanti al castello, faremo un salto al castello con tanto di incendio della torre e scontro con le guardie. Per cui il Duca, per tenerci buoni e farci contenti e rispettare il suo giuramento di proteggere i suoi popolani, ci consentirà di fare i giochi del palio. E che si concluderanno con la corsa delle quattro oche, abbinate a ciascuna contrada. Tutto qui e speriamo che i Zestari vincano!